questa è la tradizione vicina delle frittole notturne questa mariana ricordiamo che sono mezzanotte di questo venerdì e stiamo già a preparare fritto esatto sì poi iniziamo domani mattina continuiamo quella mattinata il segreto per essere così buone queste frittore da malara la pulizia la lavorazione il carbone e le caldaie e questi sono fatti col carbone si sempre col carbone quindi fuoco lento quanti ore di cottura abbiamo 6 7 per questi iniziamo quindi c'è anche la passione per la faccia c'è la versione della caldaia e roba tutte costite scelte a numero 1 di prima scelta certo cioè ci teniamo ai clienti c'è l'amore e la passione per fare questo c'è l'amore la passione e il rispetto per la gente e cosa quanti anni che fate le frittole io 50 50 ecco se si ricorda qualcosa di parte mi ha insegnato il buonanime di mio padre a fare questo lavoro col carbone e tutto al letto fuoco piano piano possiamo sbagliare qualche volta sicuramente sbagliamo perché è umano sbagliate però sono fatte con le tradizioni di una volta settore con il carbone siamo noi alle parti del maiale quale che mettete le parti le migliori a parte la le cotenne l'orecchio il muso la pancia poi ci sono le costine c'è il cammone c'è tutto c'è tutto chi vuole la coscia mettiamo anche la coscia su ordinazione mettiamo un pozzo di coscia magra solo per chi la vuole però viene più asciutta è meglio mettere dei pezzi più morbidi tipo spalla è questo